Benvenuti a 7 giorni in 70 secondi, dove vi raccontiamo in pillole gli avvenimenti più importanti della settimana. Oggi, 24 febbraio, si è celebrata la prima giornata regionale della donazione del trapianto di organi e tessuti. La ricorrenza, istituita dalla legge 21 del 4 novembre 2022, nasce per sensibilizzare la popolazione su una tematica così importante come quella del donare. Per saperne di più, leggi l'articolo dedicato sul sito www.aucaglieri.it. Lunedì 20 febbraio abbiamo celebrato l'impegno e la professionalità degli operatori sanitari in occasione della giornata nazionale a loro dedicata. Una data importante per non dimenticare mai ciò che giornalmente fanno per aiutare chi ha bisogno. Questa settimana è andata in onda la puntata di 15 minuti con dedicata alla diagnosi prenatale. Abbiamo affrontato l'argomento con la dottoressa Silvia Iossa, del Centro Integrato di Procreazioni Medicalmente Assistita e Diagnostica Ostetico-Ginecologica del Policlinico di Urio Casula. Se vi siete persi la puntata, la potete trovare sul nostro sito. Martedì prossimo, appuntamento da non perdere, con il dottor Marcello Saba. Parleremo dell'importanza della donazione di organi e tessuti. Come di consueto vi ricordiamo che potete seguirci su tutti i nostri canali social, su Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn e TikTok. Potete leggere le nostre news sul canale Telegram AOU Cagliari e per chiedere informazioni potete inviarci un messaggio su WhatsApp al numero 338 7194434. Buon fine settimana a tutti, noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo.